Anche questa volta Luca Guicciardi, tecnico del Sermide, può essere soddisfatto della prova globale dei suoi ragazzi? Certo, sono molto soddisfatto contro una squadra molto fisica, noi eravamo come sempre solo giovani, abbiamo provato a giocare, secondo me abbiamo anche creato occasioni e secondo me è risultato pareggio, alla fine accontenta tutte le squadre, poche occasioni da gol, forse potevamo fare qualcosa meglio noi in fase d'attacco, però insomma abbiamo tirato qualche rimpallo, portiamo a casa questo bel punto che ci fa muovere la classifica anche oggi. Con Michele Barraco, allenatore della Rover Bellese, analizziamo questo pareggio, un tempo per uno ci è sembrato? Sì, confermo pienamente, primo tempo noi siamo stati anche un po' troppo rinunciatari, ma a merito questo Sermide che ha fatto una buonissima partita e comunque mi avevamo parlato bene di questa squadra e infatti sul campo si è visto quello che mi hanno detto. Non c'è da recriminare su nessuna occasione di arete, specialmente nel finale, quel colpo di testa? Se noi delle grosse occasioni non abbiamo mica avute, abbiamo fatto un discreto secondo tempo, siamo stati spesso nella loro metà campo, però un po' inconcludenti, quindi direi che tutto sommato un pareggio che è giusto.